Accendiamo il Medioevo, manifestazione che porta in giro per tante località della provincia di Pescara, momenti di spettacolo e altro. Vogliamo parlare del programma? Sì, siamo alla quinta edizione, coinvolgiamo le location medioevale più interessanti del nostro territorio, della nostra provincia e partiamo da San Clemente a Casauri, con Vittorio Sgarbi e Federico Mocce per proseguire con Caramanico, Sant'Eufemia e poi abbiamo Rosanna Casale a Manopello, abbiamo Pietro Mazzocchetti a Città Sant'Ange, un bel concerto di Mogol con Valori a Collegorvino, poi alla conclusione il 2 di agosto tornerà Vittorio Sgarbi, quindi quest'anno apriamo e chiudiamo 2 luglio e 2 agosto con Vittorio Sgarbi e Federico Mocce, che da quest'anno è direttore artistico dell'evento. Dicevo anche momenti di teatro, di prosa con alcuni ospiti. C'è molto teatro, Damilo Vallone, Federico Vicino, ci sono giornalisti, Renato Minore, Pino Coscetta, Paolo Mastri, tantissima musica con Maurizio Di Fulvio che accompagna la Rosanna Casale ma che si esibirà anche lui in tante circostanze. Quindi diciamo che il nostro obiettivo è proprio nel sottotitolo, accendiamo il medioevo, festival contemporaneo ed errante, quindi tutte cose contemporaneo, però nei borghi, nei luoghi importanti del medioevo della nostra provincia. Ripeto, partiamo dalla base di San Clemente a Casauri ma arriveremo a Penne con tutte le chiese, i chiostri, così come Città Sant'Angelo, così come tutte le altre località. E visto che qui siamo all'Aurum, che cosa propone per quest'estate? Beh, io adesso ormai mi sto avviando al pensionamento, per cui all'Aurum faccio poco. che ho contribuito con l'assessorato della cultura a preparare, a disporre questo calendario culturalum che come per tutti gli anni permetterà ogni sera di avere delle manifestazioni qui all'interno della struttura.